La Bibbia oggi è una mostra d'arte inaugurata a Milano nel Salone delle Cariatidi di Palazzo Reale. Il motivo che ha ispirato pittori e scultori è quello eterno, inesauribile, dei libri sacri. Gli artisti contemporanei, nell'illustrare il tema ciascuno più congeniale, sono usciti però dai binari dell'iconografia tradizionale per rivivere con interpretazioni personalissime questo o quel momento dei sacri testi. All'inaugurazione della mostra sono intervenuti l'onorevole Meda e numerosi esponenti del mondo artistico e letterario milanese. Hanno aderito all'iniziativa maestri come Carrà, Guttuso, Fontana, Greco, Messina, Crippa, Fazzini e numerosi altri. Una commissione composta da note personalità dell'arte, della cultura e del mondo religioso assegnerà un premio alle opere più significative.